Cari cittadini, siamo qui a Vergato, vicino al banchetto dove si raccolgono le firme contro la chiusura delle agenzie delle entrate e anche in generale contro il progressivo smantellamento di servizi che la montagna sta subendo. Questa mattina l'Asso Utenti assieme alle ACLI ha promosso questa iniziativa che come vedete è molto partecipata per far presente all'agenzia delle entrate e anche all'autorità che non si possono tagliare servizi in montagna poiché ci sono delle realtà sociali che impediscono questi tagli. La spending review non vale in tutti i posti d'Italia e la montagna certamente è uno di quelli. Come vedete le firme vengono raccolte in tutta tranquillità e la partecipazione dei cittadini è numerosa e motivata. Non sono soltanto rivolti verso la chiusura delle agenzie delle entrate queste firme ma anche come dicevo per una situazione che la montagna sta subendo di taglio di servizi. Si parla di ridimensionamento dell'ospedale, si parla addirittura di un ridimensionamento dell'Inps e quindi i cittadini non capiscono, non stanno capendo queste soluzioni anche perché nella fattispecie della chiusura dell'agenzia delle entrate non è stato dato alcun avviso e il provvedimento è stato preso diciamo improvvisamente anche stamattina c'era un utente è venuto qua ma sono andato e era chiuso. È un atteggiamento, un modo di comportarsi che le ACLI e penso anche tutti i cittadini di buona volontà non possono approvare. Speriamo che questa civile protesta, questa presa di posizione contro questi provvedimenti abbia un suo esito positivo anche perché la montagna non può certo morire o essere ridimensionata da provvedimenti che non incontrano per nulla il favore dei cittadini. Ho visto che l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Vergato ha firmato questa petizione promossa da Assoutenti e dal Circolo Acri e quindi penso che appoggi l'iniziativa. Certamente, io ho firmato volentieri per questa iniziativa perché credo sinceramente che la politica in queste cose debba fare la sua parte ma anche la popolazione e anche le iniziative spontanee e degli aggregati della popolazione sono molto importanti perché fanno sentire veramente a questi burocrati che pensano con un tratto di penna di decidere i nostri destini al di là delle considerazioni di carattere sociale ma anche economico, che sentano forte la voce della comunità che si oppone a queste iniziative unilaterali. Una comunità che, vista le condizioni nostre, disagiate, di montagna, ha bisogno di provvedimenti diversi. Certamente, noi abbiamo bisogno di un decentramento dei servizi e comunque di avere anche dei servizi in loco che non ci costringano sempre ad andare verso la città ma ci permettono comunque di rimanere nel nostro territorio. In questa maniera il nostro territorio acquista valore e quindi anche noi in qualche maniera siamo più considerati e abbiamo una vita migliore, abbiamo una vicinanza migliore anche delle istituzioni. Bene.